Grazie e benvenuti, bora bora, mi presento il nostro Open Water, mi presento anche i nostri vicini di casa, detti pesci trombetta, mi presento il numero bungalow numero 26, fate voi, sulla mia destra, oltre a Laura, c'è lavandino, doccia, bagno, vasca dal bagno con un visuale, sempre piaciuta l'ombetta, proseguiamo il corridoio, stanza da letto, con sorpresa divano, ovviamente spumante detto dalla casa, e qui un altro fondo, anche scorrevole, che potete ammirare bene i pesci trombetta, qua piccola finestrella che sbuca al nostro fuori, tv, radio, dvd, usciamo di fuori, al nostro giardino, offerto dalla casa, che facciamo due sdraiette con tavolino, tavolino per ospiti con sedie, scendiamo le scale, attenzione a non farci male, possiamo accedere direttamente per farci un bel bagnetto, e questa è la nostra visuale, da vederci a domani.